Ha mai subito interventi chirurgici di alcun tipo? Sì, sì, abbastanza. Sì, 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 neanche troppo. Ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti? Un annetto fa. Ok. Fuma? Non che ne sia conoscenza. Fuma? Sostanze alcoliche? Eh, spaticamente. Ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti? Eh, a 11 anni. Ho un sonno regolare? Sa cos'è il sonno regolare? No. Va regolarmente di corpo? Non so cosa sia. Sono l'istruttore difficoltoso e vi do il benvenuto in questa caserma. Voi stamattina avete attraversato quel cancello e decisamente avete lasciato alle vostre spalle quel cancello. Adesso potete fare silenzio, dopodiché verso le 11 suonerà il silenzio. E dopo il silenzio non voglio sentire il silenzio, perché se vedo, sento il silenzio, ve la fate fuori, eh? Insieme a me. Chiaro? Adesso lascio la parola all'istruttore sull'atto. che vi dà delle delucidazioni sulle delucidazioni. Questa si chiama cucuzzolo. Voi salirete tra il cielo e i pini. In una fase aerea arriverete fino a questo cielo dal quale scenderete, fino ad arrivare a terra. Wow. That's it. Wow. Ciao. 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 Grazie per la visione!